ah che sonno ma chi è che suona ho la sveglia un'altra giornata super noiosa non voglio ritornare a casa nel mio letto e riposarmi tutta che sta succedendo ehi fermo sto cercando la mia ragazza dico subito dove posso trovarla sono molto preoccupato prego mi seguo da questa parte ah mio come è potuto succedere una cosa del genere capisco come 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 sta stavamo aspettando il dottore proprio ragazzi scusate il ritardo beh vi devo dire che dovete salutarla non non resta molto tempo che cosa è tutto pronto direi che possiamo anche iniziare adesso aspetta ma dove è franzi non se lo sentiva mi dispiace va bene allora iniziamo ragazzi questo sarà il mio ultimo video immagino visto che ho avuto un brutto incidente spero di riprendermi ma forse non c'è possibilità ma fatevi dire una cosa io resterò sempre vicino a voi almeno è quello che spero un grande saluto ciao rossi maledizione maledizione che scatole ehi amico so cosa stai passando è dura lo so ma so come aiutarti però dovremmo capire la gente forte a incontrare un nemico molto potente quindi chiama le persone migliori che hai bene siamo pronti roby aspettaci perché stiamo tornando a salvarti beh siamo arrivati ne hai fatto pare senza intoppi aiuto aiutatemi subito guardatevi a casa non mi permanete come non detto oh cos'è quella faccia che penso che avessi fatto del male a roby perché sono io ad aver mi teso una trappola prendi questo cosa mi hai ingannato bene non te la farò passare liscia nemmeno io quando frangi sa fare queste cose capito nessuno si mette in mezzo fra me e la mia fidanzata quello che hai visto era la mia mostra speciale la storia finisce così potete pure andare adesso abbiamo finito no roby aspetta non può finire così abbiamo bisogno di supereroi ancora beh allora ebbene si è uscito il mio nuovo libro lo potete preordinare da adesso su amazon quindi in tantissimi voglio che lo preordinate sono super felice basta cercare roby la comparsa del pet misterioso oppure basta andare dal primo link dal commento oppure in descrizione mi raccomando citerei tantissimo del cuore che lo preordinate ci ho messo davvero tanto 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 impegno a scriverlo e a renderlo uno dei migliori mi raccomando chiedete ai vostri genitori adesso di preordinarlo e taggatemi su instagram perché non vorrei dire niente ma in questa volta ci sono gli sticker non ve li rivelo tutti perché dovete assolutamente preordinarlo e scoprirlo lì ma potete attaccarlo letteralmente ovunque sullo zaino libri quaderni io non vedo l'ora di avere il bacino fra me e franci sinceramente dunque cosa aspettate preordinate il mio libro adesso dal link amazon e ci vediamo al prossimo video ciao ciao